Ok, buongiorno di nuovo a tutti. Eccoci a un nuovo esercizio insieme. Oggi passiamo a un nuovo argomento che sono i grafi. Abbiamo visto la ricorsione e vediamo adesso un esercizio sui grafi. Dovreste già averne visto uno almeno con il professor Corno, ma oggi ne vediamo uno nuovo. In particolare prendiamo spunto da un vero tema d'esame, forse è la prima volta che vedete un tema d'esame e cerchiamo di risolverne una parte. Come probabilmente sapete già, il punto 1 dell'esame, quello che determina se l'esame è passato col voto minimo almeno oppure no, è sempre relativo ai grafi, quindi abbiamo sempre la costruzione di un grafo. Oggi andremo a risolvere i punti A e B del primo punto, che sono proprio i due punti che creano, diciamo così, il grafo in questo esame. Purtroppo non riusciamo ancora a risolvere i punti C e D che necessitano di alcune librerie aggiuntive che non avete ancora visto, ma i punti C e D una volta costruito il grafo si risolvono direi molto facilmente con pochissime linee di codice. Quindi i veri punti importanti sono l'A e il B, quelli che costruiscono il nostro grafo. Se diamo un'occhiata, tanto così, per guardare al punto 2, scopriamo che in realtà non siamo molto distanti al saper risolvere tutto un esame, perché in questo caso il punto 2 era un punto ricorsivo che in teoria dovreste già saper risolvere. Quindi a partire dal grafo che creiamo abbiamo l'opportunità di fare anche il punto 2 che è ricorsivo. Quindi non siamo così distanti dalla risoluzione completa. Però come detto oggi ci focalizziamo sulla costruzione del grafo, che ripeto è la parte diciamo fondamentale per passare l'esame banalmente. Ok, questo è un tema di esame del 2017, quindi non molto recente, ma sono molto simili gli esami. E quindi direi che può essere utilissimo risolvere questo. Si considera il database ArtsMia, che trovate incluso nel progetto base. Questo database contiene informazioni su opere e mostre di oggetti d'arte tenutasi negli Stati Uniti. Se andiamo a vedere la seconda pagina c'è il diagramma entità relazioni. Qui vediamo che abbiamo la tabella Objects, che modella gli oggetti d'arte, le opere d'arte. La tabella per gli artisti, che hanno creato queste opere. E la tabella Exhibition, che modella un insieme di mostre appunto. Ci sono poi due tabelle di supporto per le relazioni molti a molti. Questo perché ogni artista ovviamente può aver creato più di un'opera d'arte. E un'opera d'arte può essere potenzialmente essere stata creata da più di un artista. Stessa cosa, le Exhibition, ovviamente in una mostra abbiamo più opere mostrate, esposte. E la stessa opera può essere stata mostrata in più di una mostra. Quindi questo è il database, abbastanza semplice. Vediamo cosa chiede il programma. Il programma chiede di costruire un'applicazione JavaFX, che permetta di interrogare la base dati, visualizzando informazioni sulle mostre. In particolare l'applicazione dovrà, secondo i nostri due punti che dobbiamo risolvere, permettere all'utente di selezionare il bottone Analizza oggetti. Quindi l'utente potrà cliccare su questo bottone. Alla pressione del bottone occorre creare un grafo che rappresenti gli oggetti e la loro copresenza nelle varie mostre. In particolare il grafo dovrà essere pesato, semplice e non orientato. Come vedete nei testi d'esame, per aiutarvi, vi diciamo sempre che tipo di grafo dovrà essere creato. Quindi non potete sbagliarvi da quel punto di vista. Grafo i cui vertici devono rappresentare tutti gli oggetti presenti nel database. un arco collega due oggetti se sono stati esposti contemporaneamente nella stessa exhibition, nella stessa mostra, va bene? Quindi se a una determinata mostra a New York sono presenti l'oggetto 1 e l'oggetto 2 nella stessa mostra, allora questi due oggetti nel nostro grafo andranno collegati da un arco. Qual è il peso di questo arco? Il numero di volte che questa cosa capita, cioè il numero di volte che oggetto 1 e oggetto 2 sono stati esposti insieme in una stessa mostra. Magari questi due oggetti erano presenti anche alla mostra di Los Angeles insieme nello stesso momento. Allora il peso sarà 2 in questo caso. Va bene? Mi sembra abbastanza chiaro la specifica di creazione del grafo. Se non avete domande possiamo iniziare con l'esercizio. Riduco il testo e mi concentro sul progetto base. Come già sapete il progetto base contiene, direi, tante cose. Innanzitutto contiene un'interfaccia grafica che non dovrete andare né a creare né a modificare, credo. Quindi c'è l'interfaccia grafica con i vari oggetti, con i vari bottoni che ovviamente non fanno niente al momento. Poi abbiamo il package db che contiene tutte le classi necessarie ad accedere al database, la dbconnect solita. Ricordatevi di cambiare la vostra password, io la cambio subito. Poi abbiamo il DAO. Ecco, il DAO di solito contiene almeno già un metodo base, in questo caso per recuperare tutti gli oggetti dalla tabella objects, tutte le opere, che può essere riutilizzato. Tipicamente qui sotto dovrete poi aggiungere altri metodi del DAO che vi potranno essere utili per l'esame. E poi abbiamo il package model, dove abbiamo già alcuni java bin, in questo caso sì, abbiamo quello per gli oggetti, e questi ci serviranno. Come vedete c'è già l'esco del equals, benissimo, e il java bin per l'exhibition. Non abbiamo il java bin per gli autori, ma probabilmente non ci servirà in questo esame, quindi va bene così. E poi abbiamo il model che chiaramente è vuoto, ed è lì che dovremo andare a inserire il nostro codice, la nostra logica applicativa. Va bene? Ok, direi di partire dal modello e cerchiamo di ragionare insieme su come possiamo creare il grafo. Giovanni chiede una curiosità, è lo stesso progetto base che c'era l'esame? Sì, assolutamente sì, è lo stesso progetto base. Quindi avete già un'indicazione di che cosa vuol dire risolvere un esame, a partire dal punto di partenza. Allora abbiamo detto, ok, Manuel chiede, nel java bin se alcuni attributi non ci servono possiamo ometterli? Allora sì, se create voi il java bin, se ce l'avete già, manteneteli nel senso, non state lì a eliminare i campi che non vi servono, ci sono, usatevi. Se poi volete eliminarli e avere solo i campi che vi servono, fatelo pure, secondo me perdete tempo a modificare le cose che ci sono già e che possono essere usate. Leonardo, all'esame ci può capitare di dover creare la classe di B-Connect? No, c'è sempre. Ok, andiamo avanti, devo spostare il controllo di zoom, se no non vedo niente. Perfetto. Dicevamo, sappiamo già il tipo di grafo che vogliamo, dobbiamo creare, quindi qui non ci possiamo sbagliare, guardiamo nel testo, grafo pesato, semplice, non orientato, quindi come attributo della classe avremo un grafo e sappiamo di che tipo, quindi private, graph, ok, grafo, ora inserirò i tipi dopo, quello che voglio dirvi è che ad esempio nel costruttore del modello posso già crearmi questo grafo e so che tipo di grafo andarmi a creare, e me lo dice il testo, new, simple, weighted, graph, quindi, grafo semplice, pesato, non orientato, e quindi questa classe so qual è, la posso importare, e importo anche grafo, d'accordo? Qui non si può sbagliare, andate a vedere anche sulle slide, se vi serve ricordare, la classe specifica, per il grafo di cui avete bisogno, se un grafo orientato, sarà una new directed weighted graph, ad esempio, in questo caso il simbolo, altra cosa che sappiamo, sappiamo chi sono i vertici, e chi sono gli archi, direi, allora, che vertici ospiterà questo grafo? il testo ci dice che questo grafo avrà come vertici, tutti gli oggetti presenti nel DB, allora avrà degli oggetti di tipo art object, la classe del mio java bin, che si mappa sulla tabella degli oggetti, delle opere d'arte, che tipo di archi avrà? beh, qui abbiamo degli archi semplici, che hanno un peso numerico, se non mi sbaglio, direi di sì, contiamo quante volte sono stati esposti, nella stessa mostra, e quindi possiamo usare default weighted edge, una classe che ci modella degli archi che ci sono già offerti, ho sbagliato a scrivere, default weighted edge, dovrebbe esserci, sì, lo so, devo importarlo, ma non mi dà il suggerimento, vabbè, vediamo dopo, proviamo ad aggiungerlo qua, perché, quando faccio la new, tra le parentesi tonde, devo anche specificargli, la classe, del, del tipo di archi, Francesco dice, devo importare prima la classe graph, sì, probabilmente sì, è vero, perché se non l'importo, lui non becca il suggerimento, esatto, grazie mille, ottimo, dicevamo, qui nelle parentesi tonde, quando faccio la new, devo anche dirgli, default weighted edge, copio incollo, punto class, questo per la sintassi di questa, di questa libreria, d'accordo? c'è qualcuno che ha il microfono aperto, ma io lo, silenzio subito, perfetto, ok, ok, abbiamo creato il nostro grafo, la domanda è, è il punto giusto, per la creazione del grafo? Qui siamo nel costruttore del modello, quindi questa new verrà fatta una sola volta, quando il programma parte, d'accordo? Questo cosa vuol dire? Che se noi prevediamo che l'utente possa rigenerare varie volte il grafo, cosa possibile, perché l'utente può provare con dei determinati parametri, e poi può cambiare i parametri e provare il programma con questi nuovi parametri, se noi il grafo lo creiamo una sola volta, dobbiamo poi ricordarci ogni volta di svuotarlo, diciamo così, perché altrimenti andremo a costruire il grafo a partire da un grafo già sporco, quindi con già degli elementi all'interno. Quindi io vi consiglio questa new di non metterla qua dentro, ma di inserirla in un metodo che avremo tipicamente sempre, public void crea grafo, che sarà il metodo che verrà chiamato dal controller quando l'utente cliccherà sul pulsante per creare il grafo. Poi questo metodo potrà ricevere dei parametri, dei parametri aggiuntivi, ad esempio per filtrare i vertici se è il caso, in questo caso direi che il testo ci dice i vertici sono tutti gli oggetti, quindi qui non abbiamo nessun parametro, però potrebbe essercene. Comunque questa new io la sposto qua dentro, in modo tale che l'utente tutte le volte che clicca sulla creazione, sul bottone per la creazione del grafo, il grafo è distrutto e ricreato da zero, così sono sicuro che ricreo il grafo in modo corretto. Oh, benissimo. Già abbiamo fatto un primo passo. Poi sempre su questo metodo, che abbiamo capito essere quello importante per noi, come facciamo a riempire questo grafo? Beh, direi che la parte più semplice è sempre l'aggiunta dei vertici. Qui non ci possiamo sbagliare più di tanto, perché ce lo dice il testo chi sono i vertici, in questo caso tutti gli oggetti. Come dicevo prima, ci potrebbe essere la necessità di filtrare un po' i vertici, magari non sono tutti gli oggetti, ma tutti gli oggetti che hanno una determinata caratteristica, ad esempio tutti gli oggetti che sono dei quadri. Va bene, allora qui nella crea grafo riceveremmo un parametro, string, tipo, e noi andremmo a filtrare i vertici per tipo. Non è questo il caso. Voglio tutti gli oggetti, allora come faccio? Uno, recupero tutti gli oggetti dal db, due, li inserisco come vertici. Allora, devo recuperarmi tutti i vertici, tutti gli oggetti dal database, se guardo bene ho già un metodo list objects dal DAO, molto bene, quindi avrò sicuramente bisogno di un DAO, me lo posso definire ad esempio come attributo della classe model, private, come si chiama, artsmia DAO, DAO, un porto, questo sì che ha senso fare la new nel costruttore del modello, tanto me ne serve solo uno, parentesi, e poi uso il DAO per recuperarmi tutti i vertici, quindi list di art object, vertici, uguale DAO punto list objects. d'accordo? Mi recupero tutti gli art object dal db, e poi li aggiungo al grafo. Come faccio? Uso la classe di supporto graphs, punto, add all vertices, dove gli posso passare, gli devo passare, il grafo a cui voglio aggiungere i miei vertici, grafo, e una collection di vertici. Questo metodo e questa classe di supporto sono utili perché ci permettono di inserirli tutti in una sola volta. E questa è l'aggiunta dei vertici, ed è fatta. Vorrei però farvi ragionare su una cosa, introduciamo un aspetto che forse avete già visto nelle slide di teoria, ma è importante parlarne. Il pattern che è utile utilizzare è quello di avere una identity map. che cos'è un identity map? Visto che qui stiamo andando a ricreare ogni volta dei grafi, quindi tutte le volte che l'utente clicca sul pulsante si ricrea il grafo, si va a chiedere al db la lista di vertici, e se andiamo a vedere nel DAO, tutte le volte creiamo al volo degli oggetti art object, d'accordo? Ora, ha senso fare tantissime volte questa new, ad esempio quando l'utente clicca più volte sul crea grafo? Alla fine della fiera gli oggetti sono sempre gli stessi, e quindi creati una volta potrebbero essere creati per sempre. Anche perché se io mai avessi sbagliato, non è questo il caso, ma se avessi sbagliato a implementare l'Hashcode Equals, facendo tante volte la new, correrei il rischio di avere degli oggetti che per me sono uguali, ma in realtà sono diversi, perché l'Hashcode Equals sono implementati male. Allora, il concetto è, quando riusciamo a fare queste new una sola volta, è tutto di guadagnato. Risparmiamo memoria, risparmiamo potenziali errori, eccetera. Allora, come facciamo appunto con un identity map? Che cos'è un identity map? Ma è semplicissimo, sono tutti concetti che avete già visto. Una mappa all'interno del model, che è una hash map tipicamente, che si salva al suo interno la corrispondenza tra id di un oggetto e l'oggetto stesso. Questa mappa viene riempita la prima volta, d'accordo? è poi riutilizzata. Cioè, una volta che la mappa è riempita, non passo più dalla, non faccio più una new, ma utilizzo l'oggetto presente nella mappa. D'accordo? Allora, io posso definirmi, private, una mia mappa, in cui la chiave è, diciamo così, l'identificativo univoco dei nostri oggetti. Per noi, stiamo trattando degli art object, l'identificativo univoco è il suo id, che è un intero. va bene, quindi vado nel model e ci scrivo integer, virgola, il valore sono la classe e la mia art object. Id map. Importo la classe, l'interfaccia map. Questo ovviamente cambierà a seconda del del programma, del problema che stiamo affrontando. In un altro esercizio non avremo art object, ma un altro java bin, però il pattern è sempre uguale. Questa mappa la creo una volta, ad esempio nel costruttore, nel modello, id map uguale new hash map integer art object. L'ho creata vuota adesso. Import. Enrico chiede, potrebbe ripetere come funziona l'id map? Lo sto spiegando, secondo me lo capisci bene quando finisco di scrivere il codice. Quindi mi crea una mappa inizialmente vuota di integer art object. Questa mappa la passo al metodo del DAO, cioè il concetto è io questa mappa vuota, te la do a te, DAO, per favore riempimela, d'accordo? E io poi la utilizzo e non farò più nessuna new. Allora dobbiamo cambiare un attimo il il codice, nel senso che questo metodo del DAO non ci ritornerà più una lista, d'accordo? Ma saremo noi che passeremo a questo metodo la nostra mappa e chiederemo al DAO ok riempicela, d'accordo? Siamo noi che direttamente gli passiamo la struttura dati che vogliamo essere valorizzata, riempita. Dobbiamo modificare anche il nostro metodo del DAO, quindi andiamo in artsmia DAO, non ci serve più la lista ritornata, quindi questo metodo diventa void, ma ci serve un parametro in più, cioè la struttura dati che dall'esterno dall'esterno ci passano e noi dobbiamo riempire. Integer Art Object Map Import Mappa e cosa faccio? Allora, io faccio la mia solita query e qui dico non faccio una new incondizionatamente perché se io questa new l'ho già fatta evito di rifarla. Allora, vado a controllare nella mappa che mi hanno passato dall'esterno if map punto contains key if not map contains key res punto getint punto object id ora vi spiego quindi questa if prende l'id del della riga che sto analizzando in questo momento nel result set ok l'id dell'oggetto che sto considerando e vado a vedere la mia identity map la contiene già? La prima volta sicuramente no perché ho ricevuto una mappa vuota va bene non la contiene allora devo fare la new quindi sposto questo lì dentro faccio la new del mio art object e la vado a inserire nella mappa map punto put art obj punto get id art obj d'accordo? Prendo l'id e l'oggetto stesso e lo metto nella mappa se per caso dall'esterno mi hanno passato una mappa che era già piena io semplicemente non vado più a fare la new perché quell'oggetto c'era già e quindi salto questa if non avrò più la mia lista result perché non mi serve più io ritorno i dati tramite la mappa quindi non c'è più una return cancello tutte le return e il mio metodo è modificato è chiaro? quindi ricevo una mappa che e probabilmente anzi sicuramente la prima volta qui sarà vuota perché l'ho appena creata se è la prima volta che l'utente clicca e quindi nel DAO essendo vuota entrerò sempre qua dentro e farò le mie varie new alla seconda volta quando l'utente cliccherà di nuovo crea grafo d'accordo? questa mappa non sarà più vuota perché non passeremo più dal costruttore la mappa sarà piena grazie alle operazioni della volta precedente quindi nel mio DAO non farò più non farò più nessuna nessuna new a meno che nel DB non siano stati inseriti dei valori nuovi però non è questo il caso quindi non farò più nessuna new e quindi vedete che gli oggetti vengono creati una sola volta e siamo sicuri che siano stati creati una sola volta domande su questo pattern ora non è che sia obbligatorio io ve lo consiglio perché evita evita errori siamo sicuri di creare gli oggetti una sola volta che gli oggetti siano veramente quelli dopodiché se avete implementato se sono implementati bene scoda equals funziona lo stesso anche senza le mappe però così risparmiamo anche memoria qui non è più vertici perché non abbiamo più questa lista ma recupero i miei tutti i miei oggetti da idmap punto values domande su questo va bene possiamo andare avanti poi se ci sono dubbi li risolviamo mano a mano vertici fatti con questa piccola modifica passiamo agli archi che è la parte forse più più critica se non mi sbaglio a lezione con il professor corno avete visto che ci sono direi tre approcci per raggiungere gli archi uno più semplice concettualmente ma molto meno performante gli altri due un po' più difficili concettualmente ma molto più performanti cos'è che cambia e cambia dove facciamo le operazioni nel primo approccio quello più forse semplice concettualmente facciamo fare meno operazioni nel database ma facciamo più operazioni internamente quindi lato codice qual è il concetto dell'approccio uno doppio ciclo for annidato quindi vado a confrontare ogni coppia possibile di vertici e per ogni coppia mi chiedo ok questi due vertici si devono collegare si no con quale peso se si metto l'arco se no no ok quindi doppio ciclo for sui vertici dati due vertici controllo se sono collegati se devono essere collegati allora facilissimo for art object a1 in dis.grafo .vertexset primo ciclo for all'interno ci mettiamo quello annidato art object a2 dis.grafo .vertexset poi cosa faccio beh devo controllare che a1 sia diverso da 2 perché non ha senso inserire un arco sullo stesso vertice quindi if not a1 punto equals a2 quindi se sono diversi poi posso ancora controllare che non ci sia già un arco qui attenzione siamo in un grafo non orientato quindi fa lo stesso se l'arco va da 1 o da 1 a 2 o da 2 a 1 l'importante è che non ci sia ancora se c'è già non lo metto più ok quindi posso controllare questa cosa questa cosa if not this punto grafo punto contents edge ok tra a1 e a2 e qui ovviamente ci sta una bella end in mezzo quindi controllo due cose che i due oggetti siano diversi ok questo è chiaro e che non ci sia già un arco perché io potrei aver inserito l'arco partendo da a1 andando ad a2 ma poi in un certo punto dei due cicli for avrò anche il caso inverso da a2 ad a1 ma essendo un grafo non orientato se l'arco c'è già non lo devo più mettere se questo controllo è passato va bene devo collegare a1 ad a2 punto di domanda beh questo lo posso chiedere ad esempio al dao quindi potrei dire potrei prevedere di avere un metodo del dao che mi ritorni sì è collegato no non è collegato questo andrebbe bene nel caso in cui non ci fosse il peso in questo caso devo prevedere anche il peso e va bene allora potrei direttamente prevedere un metodo che mi ritorni il peso dell'arco se c'è se non c'è magari mi ritorna meno 1 o 0 andiamo un po' a controllare sul testo il testo ci dice che l'arco ci deve essere solo se questi due oggetti sono stati esposti contemporaneamente in almeno una mostra quindi o il peso è 1 almeno 1 altrimenti se il peso è 0 l'arco non deve essere messo peso 0 vuol dire non sono mai stati esposti insieme va bene allora io posso prevedere un metodo del dao punto get peso tra a1 e a2 è ancora da fare ma poi lo facciamo e aggiungo il mio arco solo se il peso è maggiore di 0 se peso è maggiore di 0 graphs punto add edge dobbiamo specificarvi il grafo di spunto grafo vertice di partenza vertice di arrivo e il mio peso è chiaro il procedimento è abbastanza lineare per ogni coppia mi chiedo se è collegato se è collegato aggiungo aggiungo l'arco allora dobbiamo trovare un acquiri che ci ritorni il peso eventuale del tra a1 ed a2 Alessandro chiede può rispiegare i due for i due for servono semplicemente a esplorare tutte le possibili coppie di vertici che ci sono nel grafo d'accordo quindi confronterò oggetto 1 con oggetto 2 oggetto 1 con oggetto 3 oggetto 1 con oggetto 4 e via dicendo e avrò anche l'inverso perché il doppio ciclo for fa sia oggetto 1 oggetto 2 che oggetto 2 oggetto 1 ma tramite questi controlli del tipo c'è già o non c'è già l'arco io escludo l'inverso però il concetto è con questi due cicli for esploro tutte le possibili coppie di vertici nel grafo sempre Alessandro chiede vertex set cosa fa ritorna tutti i vertici presenti nel grafo ritorna un set di vertici tutti quelli che abbiamo aggiunto qua in questo caso vertex set ritorna tutti gli oggetti del database allora studiamoci un po' una query magari facciamola direttamente sul client che possa ritornarci dati due vertici eventualmente il peso maggiore di 0 se questi due vertici sono collegati 0 altrimenti come possiamo fare dove sta questa informazione in particolare se andiamo a vedere il testo secondo voi da dove posso recuperare questa informazione dati due oggetti dovete dirmi quante volte sono stati esibiti insieme in che punto del database c'è queste informazioni in che in uno solo in più tabelle ok Giovanni dice anche Mario in exhibition objects esatto ci basta questa tabella temporanea che ha solo dei numeri se andiamo a vedere però è tutto quello che ci serve perché abbiamo l'insieme delle coppie id dell'esibizione id dell'oggetto non ci serve nient'altro non dobbiamo fare delle join strane sì in realtà una join strana dobbiamo farla per avere appunto gli oggetti che sono stati esposti contemporaneamente dobbiamo fare il join di questa tabella con se stessa per vedere tutte le coppie che riusciamo ad estrarre esatto come dice Mario possiamo fare la join tra le due istanze della stessa tabella vi faccio vedere eccoci qua quindi select ci serve alla fine un peso no quindi un conteggio direi un count asterisco as peso dicevo possiamo fare un join tra due istanze della stessa tabella quindi from exhibition fatemi selezionare il database di qua power outages no non è questo questo è del laboratorio artsmia ecco qua exhibition objects ad esempio e1 virgola exhibition objects e2 ok due istanze della stessa tabella where faccio il join quindi e1 punto exi vediamo se me lo da sì exhibition id uguale a e2 punto exhibition id impongo che sia la stessa mostra perché noi vogliamo trovare tutti gli oggetti mostrati durante la stessa mostra ecco qui questo è imposto lì lì dell'exhibition è uguale e poi impongo i miei due oggetti che però conosco perché sono i due che sto analizzando nel giro corrente del ciclo for quindi e1 punto objects id uguale sarà un determinato id and e2 punto object id sarà l'id dell'altro oggetto fatemi togliere questi apici che non servono a un tubo ok quindi ripeto stessa mostra oggetti diversi facciamo una prova andiamo a prendere due oggetti a caso magari da qua ecco qua exhibition id ok vedete queste sono tutte le coppie relative all'exhibition numero 3 a una determinata exhibition noi quindi sappiamo che l'oggetto 8485 sarà sicuramente collegato all'oggetto 10421 perché sono stati mostrati almeno una volta nell'exhibition numero 3 insieme ok vediamo copio 8800 e copio anche 10421 facciamo una prova ranno peso 1 ok quella mostra numero 3 effettivamente era l'unica mostra in cui questi due elementi sono stati mostrati insieme ma va benissimo la query sembra funzionare ripetete questa query per ogni coppia possibile e avete tutti i vostri archi è chiaro? se peso è zero vorrà dire che i due oggetti elementi non andranno collegati ok prendiamo questa query e ce l'andiamo inserire in un metodo del DAO direi metodo del DAO che abbiamo chiamato getPeso me lo faccio generare create method eccolo qua solito pattern string SQL la mia query che vado semplicemente ad incollare e a sistemare togliendo le scende mettendo gli spazi vediamo questo spazio enorme qui al posto dei numerini mettiamo i punti interrogativi poi avremo la connessione connection con uguale db connect punto get connection giusto? poi abbiamo il nostro try catch che copio da sopra il try e il catch copiato male no sto facendo casini scusate con manzetta ok copiamo il catch ovviamente l'ha messo in un posto sbagliato ok ce l'ho fatta facevo prima scriverlo a mano il mio try catch è all'interno del quale mi creo il prepare statement quindi copio di nuovo da sopra per far più in fretta in questo caso vado a settare i miei parametri ne ho due ricevo i due art object dall'esterno st punto set int come primo parametro a1 punto get id e come secondo st punto set int 2 a2 punto get id va bene poi cosa faccio eseguo la query posso prevedere una variabile che poi ritornerò in questo caso cosa ritorniamo un singolo valore intero che è il mio peso che posso prevedere all'inizio 0 e poi andrò a riempire a seconda del peso che recupero adesso qui la query come abbiamo visto ci ritorna un unico valore siamo sicuri di questo quindi più che un while qua possiamo usare if res punto next noi comunque siamo sicuri che almeno un risultato ci sarà quindi entreremo sempre in questa if però è bene sempre avere questa if peso uguale res punto get int di che cosa beh della ridefinizione che ho dato qua è speso quindi peso ok prima di ritornare faccio le mie solite close quindi posso chiudere il prepare statement il result set e la mia connessione e poi ritorno peso se per caso si scatena un'eccezione al posto di ritornare null qui non posso ritornare null perché abbiamo int vabbè ritorno zero non inserire l'arco d'accordo ho semplicemente preso la query e messa qui in un metodo del DAO e allora adesso abbiamo tutto perché se torniamo un attimo nel model vedete non abbiamo più errori e quando arriviamo al fondo di questo ciclo for il nostro grafo è creato possiamo stampare per provarlo system.out .println grafo creato e magari possiamo anche stampare system.out .println il numero dei vertici due punti come lo recupero beh ad esempio facendomi restituire il vertex set grafo punto vertex set e chiedendo la sua size e possiamo anche stampare direi sì qua ci va una più il numero di archi system.out .println numero archi anche qui faccio lo stesso c'è un metodo per restituirmi tutto l'insieme degli archi presenti nel grafo e si chiama edge set ops grafo punto edge set punto size allora rispondiamo un po' di domande Giovanni prof senza leaf avremmo fatto race first e poi get into sì un'altra opzione va benissimo mi rimetto sul dao perché anche chiara vuole rivedere il metodo get peso eccolo qua e Michele chiede come seconda condizione dell'if potremmo usare direttamente il metodo get peso come seconda condizione dell'if nel modello intendi quindi torno un attimo qui qua ah sì sì assolutamente sì però io ho pensato di recuperarmelo in una variabile perché così poi la posso riutilizzare anche nell'add edge è inutile avere una dao punto get peso qua e qua perché in questo modo sto facendo due volte una query al database quando potrei farne una sola così come ho fatto qui ok allora proviamolo no al posto di collegarlo al controller che ci vuole un attimo proviamo a crearci una classe test model nel package model quindi nuova classe clicco sul main perché voglio un main chiamiamola test model finish mi crea un'istanza del mio modello e provo a richiamare model punto crea grafo c'è un errore nel dao nel test dao che era una classe così di test sì perché abbiamo cambiato il metodo list objects chi se ne frega cancelliamo tutto tanto questa classe non la usiamo dicevo proviamo a lanciare questa classe di test salviamo tutto ho sbagliato la password di Bconnect sì c'era una password sbagliata scusate torno sul test model la NES java application è partito e io vi posso assicurare che possiamo stare qui un quarto d'ora mezz'ora due giorni due settimane e noi non vedremmo mai la stampa grafo creato ok perché perché abbiamo usato purtroppo l'approccio 1 e l'approccio 1 non sempre è ci porta a una soluzione in tempi ragionevoli a differenza della ricorsione dove andiamo a valutare di più la logica che avete seguito il programma e poi cerchiamo sempre di provare l'esercizio con pochi dati quindi con parametri che facciano sì che la computazione sia trattabile nella creazione del grafo intanto lo spengo qua perché il mio computer se no esplode sento già la ventola nella creazione del grafo invece no il grafo all'esame deve arrivare a conclusione deve essere creato e quindi qui dobbiamo cercare di usare l'approccio più efficiente l'approccio 1 può andar bene in qualche in qualche caso ma non in tutti come faccio a rendermene conto? beh possiamo fare un calcolo molto semplice guardate questa query qui che è la query che usiamo per appunto calcolarci il peso dati due due oggetti quanto ci mette? vabbè 0,5 millisecondi lo vedete qua in basso non so è un po' piccolo ma ve lo dico io 0,8 millisecondi 0,8 millisecondi diciamo 0,8 millisecondi d'accordo ma questa query qui quante volte la facciamo? beh se andiamo a vedere nel mio modello la facciamo all'interno di un doppio ciclo force su tutti i vertici e quanti sono i vertici? beh lo possiamo andare a vedere dal nostro database andiamo sulla tabella objects content e noi vediamo che gli oggetti è scritto qua in piccolo sono 81.800 162 d'accordo? e facciamo un rapido conto mi apro una calcolatrice se riesco no la vado a prendere a mano dove diavolo sta che non posso scrivere nella barra con non è qua dentro no? ditemi se la vedete perché mi sto perdendo niente niente non mi fa scrivere verso tutto scusate eh vado in chat sopra latex nella prima ok e riapriamo va bene sopra latex nella prima qua eccolo qua grazie perfetto dicevamo la vedete adesso in sullo schermo la calcolatrice perfetto abbiamo 0,8 millisecondi per 81.862 per 81.862 perché siamo all'interno di un ciclofora annidato quanto fa questa roba qua? fa una cosa del genere io la copio command c sono millisecondi questi 0,8 millisecondi per andiamo online cerchiamo milliseconds to hour iniziamo con le ore incollo quello che ho copiato qui siamo a 14.000 ore vediamo un po' in giorni 620 giorni ok quindi questo programma in teoria ci mette 620 giorni a finire questo cosa vuol dire? vuol dire che questo approccio 1 può funzionare solo se il numero di vertici è molto molto basso quando noi abbiamo un numero di vertici altissimo come in questo caso ci sono 81.000 oggetti nella tabella se Alessandro con un po' di pazienza ce la si fa magari passate l'esame tra due anni quindi quando il programma finisce vi diamo il voto dicevamo esatto il corso di TDP che dura troppo poco quindi quando il numero di vertici è altissimo come in questo caso non può funzionare perché noi facciamo delle query da 0-8 millisecondi troppe volte tantissime volte se avessimo un grafo con 20 vertici 30 vertici può capitare all'esame di avere dei grafi piccoli così in quel caso allora è lecito usare l'approccio 1 perché arriva a termine quindi siete voi che dovete capire se volete usare l'approccio 1 se è fattibile oppure meno come fate a capirlo con il calcolo che ho fatto io banalmente allora in questo caso non possiamo usare l'approccio 1 possiamo fare di meglio sicuramente sì l'avete già anche visto a lezione abbiamo due approcci alternativi il primo è ok cerchiamo di fare di meglio cercando di bloccare uno dei due oggetti io blocco uno dei due oggetti quindi uno dei due oggetti mi viene sempre dato dall'esterno e io cerco di farmi dare dal database tutti gli oggetti che sono a lui collegati quindi a partire da un oggetto benissimo il database mi restituisce già tutti gli altri oggetti a cui questo oggetto sarà collegato con un arco beh come facciamo ok blocchiamo un oggetto quindi io suppongo di qui volermi far dare il l'id degli oggetti collegati quindi blocco un oggetto scusate vuol dire lasciarne bloccato uno ed eliminare l'altro quindi io impongo che l'oggetto uno sia conosciuto me lo dice qualcuno dall'esterno e io nella select gli restituisco tutti gli oggetti collegati con a fianco il relativo peso già quindi a partire da questo oggetto ritorno una serie di righe in cui ogni riga è composta dall'id dell'oggetto collegato e dal peso dell'arco che ci andrà cosa devo ancora cambiare beh l'esibizione dovrà essere sempre la stessa posso ancora impostare se voglio un controllo in più che evito di fare che evito di fare lato codice che e1.object id sia diverso da e2.object id copio ovviamente non voglio la coppia oggetto 1 oggetto 1 perché è lo stesso oggetto e non mi serve ho aggiunto questo nella select c'è un account vuol dire che avrò bisogno anche della group buy d'accordo proviamo a lanciare vedete mi dà una serie di oggetti che saranno collegati all'oggetto 8485 con il relativo peso in questo caso hanno tutti peso 1 ma va bene vedete che già miglioriamo le cose perché miglioriamo le cose perché noi possiamo evitare il doppio ciclo for annidato ce ne basta uno solo in questo caso cioè io per tutti i vertici del grafo scusate richiamo questa select che mi restituisce per ognuno di questi vertici tutti i vicini diciamo così tutti quelli che andranno collegati è sufficiente? beh facciamo il nostro solito conto quanto ci mette questa query un po' di più perché è un po' più lunga 2,6 millisecondi quante volte dovrà essere eseguita? beh non più in un ciclo for annidato ma in un unico ciclo for quindi 81.862 va bene facciamo il conto 2,6 millisecondi per 81.862 copiamoci questo valore qua andiamo ad incollare qui non siamo più nell'ordine di grandezza dei giorni ringraziando proviamo con le ore mezz'ora ci mette 35 minuti che è ancora un po' troppo se pensiamo anche solo all'esame perché all'esame noi vi chiamiamo una per volta vi facciamo aprire il programma e vi diciamo ok lanciate il programma e create il grafo capite che se per ognuno di voi dobbiamo aspettare 35 minuti inizia a essere problematico e allora perché visto che stiamo andando verso questa soluzione non passare direttamente all'approccio 3 l'approccio 3 prevede di ok non blocchiamo niente facciamoci dare direttamente dal database tutto cioè tutte le coppie con il relativo peso come facciamo allora non dobbiamo più bloccare direi niente quindi anche questo non c'è più voglio le coppie quindi nella select avrò direttamente anche e1 punto object id avrò delle coppie oggetto 1 oggetto 2 con il relativo peso tutto il grafo avrò in poche parole la group by va leggermente cambiata in particolare dobbiamo aggiungere anche e1 punto object id tutto quello che c'è prima dell'account va nella group by possiamo ancora modificare qualcosa potremmo modificare leggermente questo vincolo qui perché questa select ci ritorna tutte le coppie possibili con il relativo peso ma anche qui ci potrà ci ritornerà sicuramente ad esempio oggetto 1 oggetto 2 peso x ma anche il contrario oggetto 2 oggetto 1 peso x allora noi questo prima l'abbiamo filtrato via lato codice ma potremmo filtrarlo direttamente lato sql come ad esempio imponendo al posto del diverso maggiore o minore supponiamo maggiore in questo caso avrò solo la coppia oggetto 2 oggetto 1 ma non oggetto 1 oggetto 2 ok quindi questo è un modo per filtrare via i duplicati in questo caso perché non ci interessa l'ordine proviamo a lanciare un po' questa query c'è un errore vediamo dove qua perché c'è un errore ha due end nel where sì vero grazie c'erano due end di fila perfetto grazie lanciamo ci mette un po' di più la query 490 millisecondi ma noi abbiamo finito cioè in 490 millisecondi noi abbiamo tutto tutte le coppie con il relativo count e possiamo crearci da questa query direttamente il grafo loris chiede distinct avrebbe funzionato in che senso non mi sembra servino a distinct in questo caso non so dove volevi metterla però non mi viene in mente dove possa essere utile esatto non credo ce ne sia bisogno in questo caso della distinct per evitare i duplicati no direi di no perché non non penso tu possa fare una cosa del genere anzi sono quasi sicuro di no tipo tu volevi fare una cosa del genere dubito che funzioni quindi meglio meglio prevedere questo questo controllo i duplicati poi si possono anche evitare lato codice quindi se non lo fate qui potete farlo benissimo anche lato codice tanto questo approccio è molto molto veloce Lara chiede come si possono vedere i millisecondi io su Aedi non lo vedo e su Aedi non lo so perché non ce l'ho io ho questo purtroppo di sicuro c'è il modo da qualche parte di vedere quanto ci mette comunque la regola base è guardiamo il numero di vertici se il numero di vertici è basso basso intendo nell'ordine di tra i 20 e i 50 può andar bene altrimenti subito approccio 3 quello che stiamo facendo adesso Giorgia può rispiegare perché usiamo il maggiore usiamo il maggiore per evitare coppie duplicate cioè se io metto impongo solo diverso avrò tante coppie in più nel senso che avrò sia la coppia 44 1413 che la coppia inversa 1413 44 ma per me queste due coppie sono uguali perché il grafo è non orientato e allora con il maggiore io ad esempio filtrerei via questa perché avrei solo l'altra 1413 44 dove il primo id è maggiore del secondo d'accordo allora prendiamo questa bellissima query e ce la portiamo nel DAO in qualche modo noi qui dobbiamo ragionare e chiederci che informazioni dobbiamo recuperare dal database in questo caso e in questo caso non sono più informazioni semplici tipo un intero qui noi vogliamo portarci dietro delle informazioni più complesse che sono formate da id1 id2 peso tutta la diacenza e quindi ci servirà una classe di supporto public una classe di supporto che possiamo chiamare adiacenza che appunto ci servirà per estrarre queste informazioni tutte insieme get adiacenze in questo caso non riceviamo nessun parametro perché non fissiamo niente e nella string sql avremo la nostra query che ho copiato vedo nella chat dei tempi diversi è normale dipende da che pc avete da 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 quanta applicazione avete aperta comunque diciamo che andiamo dai millisecondi ai secondi ma non importa va bene sistemo la query che ho copiato sistemata punto e virgola e ragioniamo un attimo su questa classe adiacenza quindi creiamo una nuova classe adiacenza nel package model class mario ho visto la tua domanda ti rispondo magari quando abbiamo finito così riusciamo arrivare al termine ok classe adiacenza che mapperà i dati che estraiamo di qua quindi abbiamo due id e un conteggio va bene private integer o int fa lo stesso id1 private integer id2 o chiamiamola ma si va bene id1 id2 e private in questo caso il peso è vero che è un intero si possiamo salvarlo come intero int peso creiamoci un costruttore source generate constructor using fields e magari anche i vari getter e setter source generate getter e setter e voilà ci servono in questo caso hash code e equals direi di no perché io sono sicuro che questa classe adiacenza la utilizzo univocamente esclusivamente per recuperare i dati dai database non andrò mai a inserire oggetti di tipo adiacenza in un hash set o in un hash table quindi per me sono superflui hash code ed equals rispondo alla domanda di leonardo che è specifica sulle adiacenze sarebbe sbagliato salvarsi nella classe adiacenza direttamente i due oggetti invece che i due id non sarebbe assolutamente sbagliato però ho scelto di avere l'id perché io ho l'id map e qui viene utile l'identity map perché io so che a partire dall'id posso recuperarmi velocemente il mio oggetto grazie all'identity map e quindi per me è inutile andare a fare delle join per recuperarmi informazioni strane qui dentro so già che prima o poi userò la mappa per recuperarmi le informazioni ma non è sbagliato comunque può anche andare bene e quindi va bene usiamo queste informazioni per recuperare questi dati string sql pattern sempre uguale quindi la connection d'accordo il try catch che cerco di copiare try catch oh benissimo poi avrò il prepared statement fuori magari ho una lista di adiacenze che è quello che tornerò siccome Giovanni dice il parametro di ritorno è una lista di adiacenza ovviamente che io ho una lista di queste tre triple qua la posso già importare quindi qui mi creo adiacenza la lista di supporto che ritornerò result uguale new array list di adiacenza sbagliato scrivere quindi il prepared statement non ho nessun parametro da inserire eseguo direttamente la query qui sì che è un while perché mi aspetto più di un risultato while res punto next aggiungo a result punto append add scusate new adiacenza ho creato il costruttore apposta di che cosa adiacenza di res punto get int il primo id se voglio posso anche ridefinirlo per evitare di scrivere tutto tipo as id 1 qui nella query e as id 2 così posso usare id 1 e id 2 qua dentro quindi res punto get int di id 1 res punto get int di id 2 res punto get int di id peso scusate peso andiamo a capo così si legge meglio quindi per ogni tripla mi creo l'oggetto di classe adiacenza e lo vado a inserire nella mia lista e alla fine chiuderò tutto quindi st punto close res punto close con punto close return result se per caso si scatena un'eccezione ritorno nullo quindi vedete questa classe l'ho utilizzata per recuperarmi queste triple di di dati ebbene io torno nel modello se se posso commento questo approccio 1 che abbiamo visto non funziona quindi qui commentiamo non giunge a termine ci sono troppi vertici allora esploriamo l'approccio 3 abbiamo saltato l'approccio 2 perché abbiamo visto è un approccio intermedio che non è né carne né pesce cioè a me viene da dire per implementare l'approccio 2 passiamo direttamente l'approccio 3 con cui posso dire for adiacenza a in dao punto get adiacenze per tutte le adiacenze creo direttamente aggiungo direttamente il mio arco quindi posso dire if a punto get peso maggiore di zero io aggiungo il mio arco graphs punto add edge dove al mio grafo a partire da a punto ecco qua il problema qui ho degli id mi sono salvato degli id ma i miei vertici sono degli oggetti e beh ma io ho la mia identity map vedete come torna utile io posso dire id map punto get a punto get id 1 d'accordo a partire dall'id che ho nella mia adiacenza vado a recuperarmi l'oggetto relativo a quelli di grazie all'identity map che ho riempito una sola volta all'inizio utilissimo faccio la stessa cosa per a punto get id 2 e poi il peso a punto get peso addirittura non devo neanche controllare se l'arco esiste già oppure no perché io questo controllo l'ho fatto nella qui cioè io mi sono escluso mi sono escluso grazie al maggiore tutte le coppie duplicate e quindi sono sicuro che se sto analizzando una coppia l'arco non c'è ancora e se è il caso quindi se peso è maggiore di zero lo vado ad aggiungere Manuel dice giustamente il peso è sicuramente maggiore di zero se no non c'è nella tabella è vero è vero quindi questa if è inutile hai ragione addirittura possiamo evitare questa questa if ok proviamo a lanciare un attimo il nostro test model se lo trovo ecco qua e vediamo se effettivamente arriva a termine in teoria sì eccolo qua grafo creato in circa un secondo 85.581 vertici il numero è diverso da quello che mi faceva vedere sul mio client facciamo una prova facendo select count asterisco from objects sì i vertici non sono 81.000 come dicevamo prima non so perché quel numerino in ID non in ID in SQL Pro era sbagliato comunque sono 85.581 ancora peggio dove sono di più quindi il numero di vertici è giusto riapro la console e ci sono 399.000 e passa Archie va bene però vedete che l'unico modo in cui siamo riusciti ad arrivare a termine è stato utilizzare l'approccio 3 eccomi qua Lara chiede se posso tornare nel model eccomi consiglio alla fine di questa lezione io andrei sempre con l'approccio 3 perché sono sicuro che in qualunque caso in qualunque modo questo funziona dopodiché a vostro rischio e pericolo se siete sicuri potete anche usare l'approccio 1 d'accordo allora rispondo alle domande ce n'era una di Mario indietro Mario chiede può avere senso in questo tipo di approccio creare direttamente oggetti di tipo default weighted edge anziché creare una classe apposita però nella classe di tipo default weighted edge non credo tu possa salvarti il riferimento ai due oggetti se non mi sbaglio dovresti crearti una tua classe che estende default weighted edge se non mi sbaglio detto questo per me l'approccio più pulito forse è questo perché appunto questa classe che chiamo adiacenza è sempre lei è sempre uguale tipicamente avremo sempre due id che sono interi di solito e un peso che in questo caso era intero l'unica cosa che può cambiare è che il peso qua possa essere ad esempio double se il peso è con la virgola però per il resto il pattern è sempre quello Enrico chiede il metodo get adiacenze eccolo qua Alessandro chiede il ragionamento dietro la creazione di adiacenze e niente dal database mi faccio dare direttamente le coppie oggetto 1 oggetto 2 peso me lo dice il database grazie a questa query e io per ognuna di queste coppie che sono quelle che mi restituisce questa query che non ho più eccola qua vedete la query mi restituisce coppie di oggetti con il relativo peso e beh io per ogni riga di questa di questo risultato della query mi vado a creare un oggetto di tipo adiacenza che mi salva queste tre informazioni luigi chiede quando provo a eseguire il test model mi scatena un'eccezione lo vediamo magari insieme alla fine della lezione se hai tempo a aspettare un attimo Giovanni chiede nel controller in due analizza oggetti va messo model punto crea grafo si va messo lì io non l'abbiamo ancora collegato al controller lo farò prima di fare il push però si quella chiamata va fatta xml controller qui qui dentro lo farò dopo prima di fare push Beatrice prof a me non stampa nulla non saprei dirti magari lo vediamo anche insieme dopo e di nuovo per le eccezioni stoppo la registrazione chi vuole può ovviamente staccare tanto non ci saranno contenuti nuovi stop recording